È un fatto grave ed è veramente reso ancora più grave dal fatto che viene fatto nei confronti di chi si occupa della salute di ciascuno di noi o di tutti i cittadini. Come ASPE, così come ha dichiarato anche il nostro direttore generale ieri, non solo ci costitueremo parte civile, ma stiamo mettendo in atto, abbiamo già avviato una serie di incontri, tutte le misure che possono garantire maggiore sicurezza che vanno o dalla media salvaglianza o al bottone della chiamata per le forze di polizia. Ci stiamo muovendo perché dobbiamo garantire un bene prezioso che è il bene della salute che i nostri medici che lavorano sul territorio con molti sacrifici e con molti impegni fanno.